Ciao Armando, iniziamo questa intervista per conoscerci un po' meglio e partiamo subito dal bilancio di questo ritiro a Bormio. Che ti sembra? Ciao Elenia, bellissimo. Ho trovato un gruppo di ragazzi fantastici e fino adesso tutto bello. Petracchi, il direttore sportivo, ci ha detto che tu ad un tuo ex compagno avresti detto qui mi sembra di stare al Torino da una vita. Ecco, questa è una frase molto importante. Perché l'hai detta? Che cosa significa? Perché ho conosciuto veramente bravissimi ragazzi, alcuni già conoscevo come ho detto prima e mi hanno fatto sentire subito che stavo a casa. Niente, veramente sono contento e felice di vestire questa maglia. Anche il presidente Urbano Cairo ha detto che sei uno da Toro, beh questo immagino ti gratifichi molto. Sì, magari rispecchia il mio modo di essere in campo. La mia voglia di non mollare mai, spirito da guerriero mi porta a questo. Voglio ricambiare la fiducia del presidente perché so che ha fatto un sacrificio per portarmi qui. Voglio dare il massimo per me, per i tifosi e per le persone che mi stanno vicino tutti i giorni. Perché, ripeto, è il mio modo di essere questo, di non mollare mai e di andare sempre avanti a testa alta. E allora aiutaci anche un po' a capire chi è Armando Izzo in campo come difensore. Giochi a destra, a sinistra e hai giocato anche come terzino destro? Sì, a Genova il mio ruolo specifico è terzo a destra. A Genova ho giocato, mi adattavo anche terzo a sinistra, difesa a quattro, terzino destro, terzino sinistro. Sì, sono tutti le diciamo, dai, come dicono gli allenatori. Cerco di dare il massimo e fare quello che mi chiedo. E ovviamente hai ritrovato anche mister Walter Mazzarri. Che mister era allora e che mister è oggi? Niente, allora era un bambino, adesso sono uomo. Quindi sono contento e felice che adesso ci possiamo aiutare uno con l'altro. Spero che io e i miei compagni possiamo fare bene ad aiutarlo, perché sappiamo tutti che è un grande mister, con la sua voglia ci trasmette carica. Tra l'altro qui stiamo parlando da ritiro a ritiro. Se torniamo indietro e pensiamo a quel ritiro a Folgaria, il tuo primo che ti ha permesso quindi di poterti allenare con la prima squadra, tu eri in primavera, al ritiro di Bormio. Adesso come vedi i ragazzi della primavera, perché sono tanti aggregati a voi, ecco con gli occhi di un uomo, di un giocatore esperto, come li vedi? Ti rivedi un po' in loro? Sì, perché a volte mi rispecchiano tanto, mi rivedo in loro, diciamo, perché sono ragazzi giovani che anche loro non mollano mai, fanno sacrifici, sperano di un giorno di giocare anche loro in Serie A come sto facendo io. Mi hai raccontato tanto di te, insomma tu hai davvero messo tanto impegno per arrivare dove sei arrivato. È anche per questo che magari sei tornato nel tuo quartiere Scampia per dare una mano magari anche ai bambini che vivono lì. Sì, perché loro mi vedono come un esempio, non lo so come mi vedono, però è bello tornare sempre dove sei cresciuto, sei vissuto, diciamo. Veramente è bello perché non devi mai dimenticare che da dove vieni, così si dice. Quindi sono felice di abbracciare il mio quartiere, è veramente bello. E cosa hai detto a questi bambini quando li hai incontrati? Niente, loro, quando si vanno lì, sono tutti scugniti se li vedi, non hanno paura di niente, sono spensierati, veramente sono ragazzi puliti, dolci, è veramente qualcosa di speciale. Quindi non c'è bisogno di parole, ma basta uno sguardo, una cosa. Però il messaggio è quello che, insomma, se loro ce la mettono tutta, ce la possono fare, è questo. Cioè se ce l'ho fatta io ce la possono fare anche loro. La tua vita è anche un po' raccontata attraverso i tuoi tatuaggi, perché io so che hai anche il tatuaggio che ti ricorda tuo papà sul fianco. No, ce l'ho dietro la schiena. C'è una scritta, mai ti dimenticherò papà, perché veramente non me lo posso mai dimenticare. Anche se l'ho vissuto poco, ma era veramente una persona per me importante, buona. Un punto di riferimento. Sì, un punto di riferimento. Quando sei arrivato c'erano tantissimi tifosi da attenderti, perché c'era una certa somiglianza con un altro giocatore che è arrivato poi poco dopo di te a Torino, Cristiano Ronaldo. Sì, magari poi mi sono tolto il cappello e sono scappato via tutti. Adesso però ce l'avrai come avversario, che ne pensi? È bello, un derby è ancora più bello.